Musica Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale Io sono Arwen ed oggi continuiamo con The Cancel Dobbiamo iniziare l'episodio 3, quindi il terzo capitolo diciamo più che altro in cui ci siamo lasciati, praticamente siamo entrati dentro queste segrete e abbiamo trovato il corpo di un servitore senza vita e dietro di noi ci stava arrivando qualcuno da dietro non sappiamo chi possa essere, non credo che sia nostra madre comunque continuiamo, vediamo che cosa succederà in questo terzo capitolo giochiamo subito La cosa che posso raccontare è che Sara ha indeed cambiato In vostra opinione, perché la mia madre rimane in hiding durante molti mesi? Tu devi lasciare me solo ora, ho accettato a tutto, anche a... Ma tu stai capire che la mia madre dovrà accettare le conseguenze del fatto? No... perché qualsiasi cosa stai a dire, voglio sapere da allora siamo diventati una e la stessa abbiamo ufficiale usato l'identità della mia sista Emma Emily Hillsborough la moglie con due fasi tutti sembra essere un po' non necessariamente fattati non dimenticate dove sei, per favore è stato strano questo inizio di terzo capitolo allora, scegliamo la lettura vediamo però diversivi ce l'abbiamo in livello 1 di cosa dobbiamo sbloccare in livello 1? ah, linguistica ci servirà è l'unica cosa che ci manca quindi possiamo fare uno di quelli che si occupano della linguistica logica, scena, eccolo proviamo questo ci darà un punto abilità in linguistica almeno ci servirà sicuramente ingresso della cripta lui lui lui, la conferenza è about to start ogni minuto non è il momento di essere d'amore cosa sta succedendo? non 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 Beh sì, effettivamente. I don't know what the subject is, but the future of our countries depends on it. Given the importance of all this to Mortimer, he won't let the conference begin without you. So if you don't want more servants coming looking for you, I'd advise you to join us quickly and to put a brave face on it. The best fear you can do for yourself, Louie, and for Sarah, is to come and support Mortimer's project at the conference. Va bene, facciamo, potete contare su di me. Don't worry, you can count on me, Mr. President. I shall help you with Mortimer's project as soon as I finish up here. Good, Louie. Sarah would be proud of you. I'll stall them while you're on your way, but make haste. Eh, bene. Sa dalla nostra parte, questo signor Washington. Allora, cerca indizi sulla presenza di Sarah, derisce o vai alla conferenza. Io cercherei degli indizi. Quello è chiuso. L'avrà chiuso lei, beh. Cos'è? Ok, un altro libro. Forse è l'unica cosa che possiamo vedere è la cenere. Ah, questo. Non posso... No, non posso prenderlo. Se mi mangio un po' di miele... Ecco, così aumentiamo un po' i cosi perché sennò... Allora, proviamo a vedere la cenere, che ne so, è l'unica cosa che possiamo vedere. Analizzare, come la vogliamo chiamare. La cenere. Va bene, dai, per forza. Ce l'aumentano di due. Di un altro. Vabbè. Vabbè. Beh, sì, effettivamente. Però penso che possiamo andare... Sarebbe carino andare a scoprire che cosa c'è là. Sono altre stanze, però. Oddio, sono troppo curiosa. Perquisisci. Chiave con il simbolo occulto dell'aria. Guarda, sotto la maschera facciamo? Vorrei tanto esaminare il cadavere, ma come facciamo? Vabbè, sennò dai, come mangio un altro miele? Esaminiamo il cadavere, per forza. Non possiamo lasciarlo lì così. Alla nuca. Allontaniamoci. Allontaniamoci. Cosa era? Moneda. Saliamo un po' le scale Partecipa alla conferenza Mamma mia che rottura questo giardino Così Mi urta proprio Ecco vedete che è fastidioso Io non riuscirei a uscire da Dai labirinti Ci metterei un pochino Perché non mi capisco Mi danno fastidio e basta No qua ci blocchiamo Andiamo qui Ok qua Non mi blocco vero? Ah ok meno male Sto trovando la via d'uscita Miele? Magari? Altro miele? Eh? Che me ne serve? Poi mi sto rendendo conto Che più andiamo avanti Più andiamo avanti nel gioco E più il miele ci serve Perché dobbiamo fare delle scelte Utilizzare comunque i punti Per scoprire sempre più cose Se non utilizziamo mai niente E' normale che non Non li utilizzi Cioè non li sprechiamo Però dopo non troviamo niente Sappiamo sempre meno cose Questo cos'è? Non mi ricordo La terra Non so la chiave sinistra Non so la chiave destra Oddio no Ma che cavolo Cos'è adesso? Ma tutte acque di melissa? Questo? L'arte del fabbro Quella sarà sempre un'altra acqua di melissa Non posso Ah è di sir dorato Ho tutto Quindi Mangiamoci un'altra Mi sa che ci conviene Vabbè Vediamo un po' se è qui La porta alla nostra sinistra Come al solito Guardo a destra Andiamo Ah E lui che fa finta di niente Sta zitto Ci pare il sedere Speriamo Che ce lo pari Fino alla certa Incontro a lord mortimer Voi forse non li vedete Perché Le scritte Gli obiettivi Sono in alto A destra Dove ci sono io Praticamente Con la webcam E quindi forse per quello non li vedete Allora lord mortimer Eccolo là Però prima possiamo anche Ah l'ambra Ambra Ambra Ui sta Fai cavolo Quella funziona sempre Ci serve Parliamo con loro? Non lo so Son Glad You're here It seems lord mortimer Has been waiting For you to arrive Before beginning What a pity Your mother Isn't here For the conference I hope I'll be able to see her Before I leave I still have A very important letter To give to her All right Louis You look like You're miles away Everything's fine Don't worry Lord mortimer wants to talk to you Louis Don't make him wait Ah ok Non dovevamo Fare alcuna scelta Niente Vabbè Qui Moneta Bene Diventeremo ricchi Alla fine Qui Parliamo con Questo perù Ottimo Cosa succede Fra questi due? I sense You have things You'd like to say But Something's holding you back What is going on Between you two? Nothing Absolutely nothing I believed in him I followed him To the best of my ability I championed his ideas Defend decisions And then Without even realizing it I became lost The siren's song Mr. Deriche You wake up one morning Not knowing where you are And you think about everything you've done For a man who wasn't even worth it For a man who has no respect for you Who uses you And who drops you As soon as he no longer needs you For me It's too late now But you You still have a choice Non rispondere al suo richiamo Non rispondere al suo richiamo Quindi praticamente Questo Peru È stato usato Da Lord Mortimer Finché gli è convenuto Insomma Finché gli ha fatto comodo E adesso Siccome non gli fa più comodo Se ne frega Non rispondere al suo richiamo Moneta Trovata un'altra Presa Niente qui Ma scusate Ma questo non è Lord Mortimer Allora c'è un ragione Devo parlare Che è lì per terra? Miele E vai Allora c'è un ragione Continuiamo Allora c'è un ragione Vabbè, parliamoci. Grazie a tutti, grazie a tutti. Di cosa tratta questa conferenza? Come funziona una 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 conferenza? Oh, questa tradizione ha più o meno sempre esistito, Louis. Ha continuato da generazione a generazione. Quali importanti decisioni avete già orché strato? C'è un esempio di un evento che si è deciso qui, prima di essere implementato nel mondo extranjero? Beh, prendi la rivoluzione francesa. Si è deciso proprio qui, due anni prima la sua implementazione in Francia. Cinque anni prima? Abbiamo chiesto tutto, quindi torna indietro, anche quest'altra, non ho altre domande. Luì, lasciatemi guardarti un momento. Io vorrei lasciarti in un segreto prima di iniziare, perché ho bisogno di avere vostra assistenza. Vedi, il progetto che ho presentato riguarda il territorio di Louisiana, in Nord America. È il territorio spagnolo, e sto facendo la proposta dell'Assemblea per diventare francese. Continuate. L'idea è di aumentare il territorio degli Stati Uniti. La prima stona di questo progetto è consistente di ottenere la Spagna per siedere la Louisiana a Francia. Una volta diventare francese, la Francia lo manderà ai Stati Uniti, che poi ci permetterà di doppiare il risultato del loro territorio. E questo è lì che vieni, la Francia e gli Stati Uniti, mano in mano. Due democrazioni illuminando il mondo. Fino a dove si spingerà il suo progetto? Scusate, ma... ...interrogatorio e politica? Ah, cioè... ok. Facciamo... ...fino a dove si spingerà il suo progetto riguardando l'interrogatorio, visto che siamo un pochino più efferrati. ... 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 A part from President Washington, they all belong to monarchies. Do you really think they won't resist? Of course they'll fight. Fearful as they are of losing their precious privileges. But the world needs visionaries. Like you. Like your mother. It's a pity Sarah isn't here to see it. She only knew about a tiny part of the project. I hope I can count on you, Louis. It's time to start now. I must ask you to keep it to yourself for the time being. Take a seat, follow the discussions. We'll have an opportunity to catch up later and you'll be able to let me know your thoughts. My friends, I propose we get started. First of all, I would like to thank you for taking the time to come. The honor is ours, my lord. As per our custom, here we are all together to discuss the face of tomorrow's world. Even though there may be certain tensions between our nations, I must ask you to keep an open mind. As Sarah de Richer is unable to be among us, please welcome de Richer, who will represent the Golden Order and will vote on its behalf when the time comes. Welcome among us, Louis. Welcome, Monsieur de Richer. I hope he'll be more effective than his mother regarding the protection of the King of France. The Order has proved particularly inefficient. Come Manuel, you're not going to spoil our visit. The Order's mission was not to protect King Louis XVI, as far as I am aware. We are talking about the King of Divine Blood, for goodness sake. It seemed obvious to me he needed to protect him. If the Golden Order wants to pride itself on being an influential organization, it should have kept him alive. I'm sorry about the fate of the King of France, Duke Manuel. However, I'm surprised at your remark. How can a man like me have changed the course of things where a man like you, powerful, capable of influencing international politics, was unable to do any better? Perhaps we may begin, Lord Mortimer. Certainly. I have a dream that our nations will continue to support each other, more now than ever before. A dream that, for the sake of common good, we will do what it takes to ensure stability in the modern world. I have a dream that we shall lead by example, and ensure that the American territory may remain in peace. Thank you for the thought, Lord Mortimer. But I don't see where you're leading. I'm coming to it, Mr. President. I need not remind you that North America is currently divided between the United States on the East Coast and Spain, which occupies the remaining two-thirds of the continent. Well, I propose that Spain cede the center of the continent to France, namely all of Louisiana. Louisiana? But, well, it is not for sale. Lord Mortimer, I sincerely hope I have not come all this way just to hear you ramble on about what Spain should and should not do. When we went to all the trouble of gaining the territory a few years ago, it was not just to lose it today. Have I made myself clear? What did I tell you, William? You speak of union, and yet here you are, about to tear us apart. Duke Manuel, I perfectly understand you. But rest assured, you will soon adore my proposition. You shall see. Well, since you give me the choice, my good fellow, allow me to doubt it. However, I am impatient to hear what Spain could possibly gain from the sale of Louisiana. I never spoke of a sale, my good fellow. What? I do not understand. There is one more territory left to conquer, if I'm not mistaken, in the northwest. It is, of course, occupied by your notorious Indians, but... We shall soon be rid of the savages, so that is not the question. Non sono selvaggi. These savages, as you call them, were there before you. They were on their homeland. As much as the black people of Africa, Monsieur de Richer. That does not stop your dear France from massacring them, and sending them like cattle to Mr. Washington's cotton plantations to provide him with cheap labor. So you keep your morals to yourself, if you please. Senor, I would not like to be associated with that. The subject of black slaves in the United States of America is a complex subject, which we shall resolve at a future date. Possiamo fare la Francia per s'abbandonare la schiavitù. Pogodoy, you must know that France will soon ban these barbaric practices. Oh, do not get on your high horse, Monsieur Frenchman. The only reason why France has ceased trading in slaves is because of the commercial blockade that Great Britain has imposed against you. The instant the shipping lanes have been restored, France will again treat these people like cattle. Come now, my friends. Let us not digress. Anyway, these primitive people have no souls, Louis. We bring the good word to them in order to save them. You'll see. Colonization brings with it many benefits, too. Excuse me, if you don't mind, Your Eminence, I shall continue. Duke Manuel, I believe that Spain should send Louisiana to France free of charge. This is utterly grotesque, Lord Mortimer. What a strange example you set for your young protege. Isn't that so, Monsieur de Richer? Do you understand anything of this proposition? Non vorrei utilizzare tutta questa difficoltà, tutti questi punti. Non dico niente, non voglio dire nulla. Perché non possiamo neanche dire che li proteggono dai britannici, che non è vero. E poi... Non lo so, vuole espandere l'America, quindi... Facciamo non dire niente. I must say, William, I find your project mostly disfavours me. I thought you were my friend. And I am, Mr. President. That is why I'm doing everything in my power to calm your expansionist fervor. France, in Louisiana, should persuade you not to attempt anything to take the territory by force. Louisiana is a vast wetland where you would needlessly lose most of your troops. It would weaken you and offer certain nations the perfect opportunity to take back your famous United States. I am protecting you from yourself, George. Trust me. I understand. But with friends like you, sir, I certainly don't need any more enemies. I hope you know what you're doing. Non lo è, infatti. Non lo è, infatti. Non per mettere troppo finito su questo, Lord Mortimer. Ma credo che l'Sea giusto sarebbe in favore delle cattoliche di Louisiana che si trattano a rivoluzionari secolari e uccideri. Pensa alle mappe di Mortimer. On the maps of Italy I saw in Mortimer's secret study, he had anticipated movements of troops across Italy. I wouldn't be surprised if he's planning an evasion of Italy by France. And if I push the notion a bit further, I can well imagine that Bonaparte's cannons financed by the order will be used for that purpose. I don't know if I'm the best person to speak about that, Your Eminence. Well, I think that the French army will enter Italy and that the Vatican will do whatever France demands of it if the Vatican wants to retain its place. You are joking, I hope. Lord Mortimer, I did not come here to listen to such nonsense. What makes you think that, Monsieur de Richer? Well, Monsieur Bonaparte, here present, has ordered a large number of cannons and I wouldn't be surprised if they would be used to keep Italy under control. Come, sir. What a strange idea. I have enough on my plate with issues in Corsica. If you say so. You see, you're- But Corsica is not where the cannons are to be delivered, is it? Aye, but, ah, Louis, you are quick-witted. I like you. You seem to be overlooking something, Monsieur les Français. I also have backers who would be only too pleased to demonstrate the full extent of their fervor by defending the Vatican. Well, I hope that you will teach this young man some manners, Sir Gregory. It looks like I won't be just making friends here. In any case, my lord, I doubt the English crown will agree. I know you, Emily, that the Prussian will never accept this agreement. Volner looks like he's set on ruining Mortimer's plan. Duchess, I am persuaded that we shall find a common ground. That's enough, William. These are great times. We don't care about the fate of Louisiana. Fritz once interested no one but yourself. Speak for yourself, my friend. Hold on there, Mr. Royal Gigolo. Lower the volume and let Sir Gregory finish. Hon, Godoy, and now Volner? Mortimer's adversaries are ready to tear each other to pieces, and he takes a malicious pleasure in watching it happen. Haha, yes. Gentlemen, let us try to remain calm. There you are, William. See where your projects have taken us, as per usual. Chaos! That's enough. I'm tired. We shall continue this discussion tomorrow, but please be aware that your project will never be ratified. Those who are opposed to this project, follow me. Praticamente tutti. Are you coming with us, Monsieur de Richer? Come, Gregory. I think Louis would rather stay. Wouldn't you, Louis? No, non mi fate fare... Dobbiamo dire che comunque il piano di Mortimer non è proprio bellissimo. Sinceramente a me non piace, poi tutti quanti si stanno rivoltando, non vogliono. E anche se noi restiamo ad aiutare Mortimer che cosa cambierebbe quando gli altri non vogliono accettare il piano suo. Quindi... Se noi rimaniamo con Mortimer forse ci rifacciamo tutti i nemici, questi qua. Invece se ce ne andiamo può darsi che... Sentite, a me questo Mortimer non mi sta molto simpatico, non mi ispira molta fiducia. Quindi io vado e aiutolm. Proviamo, speriamo di fare la scelta giusta. Non so se ha fatto la scelta giusta però... Ma... ... 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 War is what you want. War is what you'll get, and on your own territory, in your homes. Enough games. Spain will join the coalition against France and declare war. You too, Duchess Hillsborough. You will speak to the Queen so that Great Britain commits to going to war with France. What do you expect from the paper estates, Sir Gregorio? What do you think? That they hold a mass? They will go to war, of course. What is it that you didn't understand in what I just told you? We all declare war on France. Militarily, politically, eventually. And me, Sir Gregory, how can I help? Louis, you have won my trust. The Order will have to act in France. But even before that, I'm going to need you. Right here and right now. Leave me now. I have to prepare for tomorrow. Let's meet early tomorrow morning for the next phase of the conference, which promises to be most exciting. Uh, Louis? I'd like to see you a moment, please. Thank you for signing me today. I won't forget it. I'm going to need you. Help me counter Mortimer on his own ground. Right here. I'm sure he'll try and win some of you over. He needs our votes. Now, you leave that to me. In the meantime, I must ask you to go and see President Washington and persuade him to trust me and join us. Eh, già. Sono la persona giusta per farlo, però. Certo. Do you really think that I'll be able to convince him? I'm not saying it's going to be easy. But I have total faith in you. He likes you, and thus he won't see you coming. You must be careful, though. If he senses that you are trying to manipulate him, he'll dig in his heels. Louis, use every means at your disposal. If Washington drops Mortimer, his defeat will be complete. You should go right away. There's no time to lose. William already has a head start on us. Very well. I'll go right away. It's been a pretty good time, eh, this part. Oddio, he tried to convince George Washington. I would say to stop here, because at least we'll convince him directly next time, in the next video. You know what you think about here in the comments. The plan of Lord Mortimer is not accepted almost by anyone. A parte da Washington, ma lui è il presidente degli Stati Uniti. Per me le cose si stanno mettendo molto male per Lord Mortimer. Sicuramente cercherà di... Allora, io non so se ho fatto la scelta giusta, devo essere sincera. Potevo rimanere con Lord Mortimer, ma questo Lord Mortimer per me, a me non mi convince, non mi ispira fiducia. Ma neanche gli altri, neanche quel Wallner e altra gente, insomma, non è che mi ispirano molta fiducia. Però sicuramente sono meglio rispetto al Lord Mortimer. Il fatto di nostra madre che è sparita, sicuramente dovremmo sapere che Lord Mortimer per me c'entra qualcosa. In ogni caso voi fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Se vi piace questo gioco, se vi sta piacendo oppure no, comunque fatemi sapere le vostre opinioni. E come al solito noi ci vediamo in un prossimo video. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti e attivate la campanellina. E se volete seguirmi anche su altri social vi lascio il link di Instagram e della pagina Facebook qui sotto in descrizione. Un bacione e al prossimo video. Ciao! Ciao!